ok eccoci qua buongiorno a tutti allora su fb ho ricevuto un sacco di messaggi privati devo dire molto carini perché è stato apprezzato quello che ho fatto vedere le volte scorse sui video vi faccio vedere il setup tra virgolette completo perché si possono aggiungere ovviamente più cose questa centrale per chi fosse la prima volta che sta guardando il video è la nx1 è un mixer completo quindi touchscreen incorporato i vostro i vostri 4 encoder per gestire i parametri e 10 playback fader motorizzati la nxk è un prodotto che potete acquistare a parte io la chiamo la zona dedicata al programming quindi tastiere numeriche il record e tutte le varie funzioni in più avete quattro encoderini piccoli in questo setup qui diciamo che i quattro encoder fondamentali sono questi e questi piccolini li dedicherei al allo schermo che poi non x tramite il software man mano che lo conoscete capite quali sono le possibilità e le funzionalità in più qui ho agganciato un nx play quindi l'nx play in questo caso qui agganciato all'nx1 vi dà che cosa 20 playback fader motorizzati ovviamente potete gestire le due le due bancate questa è la bancata 1 questa la bancata 2 decidete voi ovviamente questa è la zona di programmi quindi qua avete una piattaforma direi alquanto grande sempre per chi sta vedendo questo video per la prima volta alla nx1 potete agganciare un touchscreen via hdmi quindi nella parte retro c'è l'hdmi più le uscite usb a proposito di vi faccio capire anche com'è agganciata la nxk la nxk agganciata tramite usb alla nx1 la nx play tramite usb alla nx1 quindi semplicemente due alimentazioni ovviamente per alimentare la nxp e la nx1 finito mixer completo con tutte le funzionalità di onyx l'unica cosa che voglio ricordarvi è che supporta la nx1 semplicemente 8 universi di mx non sono al momento espandibili e non credo tra virgolette che lo saranno mai almeno da quello che ne so io per ora quindi eccoci qua obsidian nxp che potete acquistare separatamente nx1 e nxk per chi stesse guardando il video per la prima volta ora vi separo gli elementi così capite effettivamente ok quindi nxp la potete acquistare a parte nxk la potete acquistare a parte nx1 la potete acquistare a parte buona giornata a tutti buon divertimento